E Peter sta qui proprio stiso... Oh, c'è sta gente! Oh! Circolare! Un grande onore! Se qualcuno merita una medaglia è senza dubbio l'agente Davis. Spero che la cerimonia non sia ancora iniziata. Tutto mo'. E questo? Già che stiamo qui in mezzo... Insomma, ai guai e... Cioè, non ai guai, vabbè, insomma, alle missioni. Salve a tutti ragazzi, stiamo con un'altra puntata di Spider-Man. E praticamente io avrei voluto dire questa intro... Più avanti, ma vabbè, aspetti... Oh, hanno lasciato la muschia alta. Ecco. Oh! 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 Se venite qui... Oh! Oh! No! Non penso di farcela... Con quell'obiettivo. Oh! Aia! No, alla fine man'un ucciso, incredibile. No, incredibile, proprio, eh... Una cosa... Veramente vergognosa... Vabbè, va. Eh, c'è una nina sta caspata di cerimonia. Che sennò... C'è quel tipo lì. Vabbè. Noi saremo proprio lì davanti. Ci sarà un mare di gente a vedere. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto... Ero al liceo. Miss Steinberg mi diede sei mino. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Ehi, dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Un supereroe? Sono solo una persona che non molla mai. Andiamo. Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborne, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. Cioè, tipo finita finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh, dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidate Shipping. C'è qualcosa che non mi è chiaro. Non so perché. Più tardi potremmo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie davvero, Jim. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. Oppure, al posto del caffè, perché non una cena invece? Magari potrei venire da te e cucino io. In alternativa, ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto, cucinato da professionisti. Per gesti di straordinario coraggio che trascendono il comune dovere, è mio privilegio insegnare l'agente Jefferson Davis di questa splendida medaglia d'onore. Ha una chiamata. Non mi sembra il momento, Jim. È urgente. Ok. Congratulazioni. Grazie, signor sindaco. Beh, voglio condividere quest'onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Mais. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sim. Ho lavorato anni per questo momento. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa due volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi. Vederti soffrire. Vederti soffrire. Sì, va qua! A terra! Sì, va qua! Mice! Mice, stai bene? Mice! Mice! Peter! Avanti, Peter! Mice! 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 Grazie a Dio! Mi senti tesoro? Mi senti! Peter! Stringimi la mamma se ti senti! Aspetta qui! Vado a cercare tuo padre! Peter! Svegliati! Parla di qualcosa, ti prego! C'è ma che cavolo... C'è quello si è fatto detonare... Davanti a tutti! Un kamikaze! Mamma! Mamma! E Peter sta qui proprio stiso! Oh! Oh! C'è sta gente! Oh! Circolare! Eh! Oh! È una follia! Dovado! La dentro! Oh! Ti stava cadendo una sedia in testa! Ok! Ok Eh vabbè ma Che caspita Vado a cercare tuo padre E vai col tubo Il tubo Un eroe D'accordo ascolta Io vado a cercare papà Ok Papà Lo troverò Cioè se lei è andata a finire in quel modo Noi come andremo a finire Che stiamo scalando Non so Le rampe, le cose Oh oh I demoni C'è va Ma li stanno ammazzando tutti Oh 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 Quello ci ha visti Li stanno ammazzando proprio A sangue freddo Cosa stavi dicendo? Oh Qui se ci scoprono Andiamo a finire male Molto ma molto male Eh Don me ne vado Ora non posso Non posso avvicinarmi a quegli uomini Eh lo so Fin quando quello non se ne va Ok Oh Oh Caspiterina Ok Veloce Oh mannaggia Potresti Filare via Devo aiutarlo Ora Ti salvo io papà No No basta No Fermo Dobbiamo andare Ora Ora Eh ti pareva Ti guardavo strano eh Papà 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 No Svegliati papà Coraggio Svegliati 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Sono Peter Parker, ero al municipio quando... Senti, so che non mi conosci, ma volevo solo dirti che... So come ti senti Ecco... È questo che volevi dirmi, no? Oppure... Il tempo lenisce il dolore O non temere Fa parte del piano di Dio Scusa, volevo solo... Aiutarti Lo so Ti prego di scusarlo Non so come farò con lui Per mille capperi sotto sale Disse uno C'è... Ho da fare Che c'è? Hai già iniziato a cercare Martin Lee? No, non posso scatenare una caccia all'uomo basata sui sospetti di Spider-Man Ti dico che è lui, devi fidarti Portami una prova e poi ne riparliamo Una prova? Certo Ehi, sono io Ciao Allora, come stai? Mi sa che ho fatto un casino Quel ragazzo ha perso suo padre per colpa mia Ti conosco troppo bene per chiederti di non essere duro con te stesso E la polizia? Hanno trovato indizi su Lee? Non lo stanno neanche cercando Yuri non vuole credermi Allora dobbiamo trovarlo da soli Ho fatto delle ricerche Va a questo indirizzo L'anno scorso Martin Lee ha rilevato le azioni di un centro di riciclaggio Sarà il suo nascondiglio? Possibile Sappiamo che non è alla Fist Se non lo trovi al centro Puoi comunque cercare una pista per scoprire dove si è nascosto Giusto Ottimo lavoro, MJ Ti tengo aggiornata Ah, un'altra cosa Ho parlato con un detective riguardo i demoni che hanno interrogato Sostengono che Martin Lee abbia il potere di, testuali parole, corrompere le persone Corrompere? In che senso? Sembra una sorta di controllo mentale Fa emergere il tuo lato negativo Spingendoti a commettere gesti che non ti appartengono Ah, mi sembra assurdo Ha parlato quello che si arrampica sui muri Ma vabbè, ma io sono un eroe Con un costume fighissimo Vabbè ragazzi Praticamente Davvero un peccato Cioè Abbiamo visto la morte di Jefferson O meglio, vabbè Chiamato Jeff Proprio in faccia Cioè Praticamente Gli hanno scoppiato una bomba Sotto i suoi occhi E' un peccato Qui che è successo Arrestati? Ah Dei cattivoni Animaccia vostra Questa è la nostra città E per la miseria Ce la riprenderemo E vabbè Detto da GG Guarda Sei un grande Proprio Davvero un grande Comunque Spero che questa puntata Sempre di sorpresa Incredibile Aspettate Vediamo un attimo E vabbè Facciamo questo C'è sempre una missione secondaria Spero che non vada a finire male Come agli altre volte Olè Olè Fatto Eeeh Cosa vorresti fare? E olè Ok Pensavo di non farcela Neutralizza la bomba A mezz'aria Ma non quello Ma nemmeno quell'altro Mi pare che non ho fatto Bene la missione Ah non l'ho fatta Ok Per dispetto Vi smonto una portiera Oh Mio dio Ma che cavolo Tutto a posto amico Penso proprio di no Cavolo Questo si è fatto un male cane E anche la mano Non sta molto bene E mi spiace amico Ma non riesco Non riesco a liberarti Dovrai arrangiarti Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Se cos'è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se l'ho ancora fatto Io e il nostro amicone Incastrato Amicone Di un demone Vi Salutiamo Scraziato Oh Ancora vivo Però eh Caro mio C'è una mira Che proprio Spacca Spacca le pietre Bella ragazzi Di un demone C'è un demone Enquecii Ci boss Chor